Il 20 maggio siamo davanti all'ospedale Lini Guarda di Milano. Dopo il rosario facciamo l'atto di riparazione per il grave delitto dell'aborto. O Dio nostro Padre che nel tuo infinito amore per noi, vuoi che tutti gli uomini siano salvi con la fede e l'amore della Chiesa che porta nel suo cuore di madre il desiderio del battesimo per tutti i bambini del mondo. Desidero esprimere questa sua carità battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo tutti i bambini che oggi saranno uccisi con l'aborto nel grimo delle loro madri in tutto il mondo, da domenica a domenica. Con questo atto di fede e di carità intendo con tutta la Chiesa offrire per le mani immacolate di Maria Santissima, con il sangue di Gesù, quello di tutti i bambini uccisi con l'aborto implorando per il sacrificio della loro vita, pietà e misericordia per l'umanità. Riparare il grave delitto dell'aborto che mentre sopprime la vita del concepito lo priva della grazia del battesimo. Pregare per la conversione di tutti gli operatori e collaboratori dell'aborto orribile delitto che sottoscrive la condanna dell'uomo, della donna, del medico e dello Stato. Pregare per la conversione di quanti con i potenti mezzi della comunicazione sociale sostengono, giustificano e difendono questo gravissimo peccato disconoscendo l'insegnamento di Cristo e il mistero e il magistero della Chiesa e infine per invocare misericordia su quanti ingannati e sedotti da questi mezzi potenti si allontanano dall'amore di Dio Padre. Imploriamo la Madre di Dio, Madre Nostra, presso la Santissima Trinità affinché in Italia vengano abolite le leggi contrarie ai consopi non irreziabili che gridano vendetta al cospetto di Dio. Padre nostro che sei nei Cieli, se ne ha santificato il tuo amore, venga il tuo regno, se ne ha fatta la tua volontà come il cielo, così terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indura in tentazione ma libera, ci dà il male e ama. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amico. Maria, Padre, Figlio e Spirito Santo, come erano i principi, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen.